buongiorno ragazzi e buon natale credo visto che ormai siamo in periodo allora quel video di quest'oggi prima di prendere questi tre quattro giorni di ferie natalizie e tornare a casa con i parenti è come vedete già da no fail di là già da sfondo riguardante il fresco fresco recentissimo oggi in data vediamo cosa siamo 22 sono riuscito aiutare rank 1 mondo mythic quindi il massimo rank classificate e quindi ho deciso di fare questo video al volo proprio quindi mi chiederò scusa no editing no retry qualsiasi cosa sbaglia resterà nel video perché proprio ho i minuti contati ho deciso di portarvi questo piccolo video per darvi un aiuto sulle domande che spesso riguardano il mazzo che mi ha portato a questo rank 1 legend quindi togliamo subito questo e andiamo a farvi vedere direttamente magic arena il mazzo in questione eccolo qua ve lo presento è stato impiegato per la maggior parte della scalata ma diciamo che sicuramente è stato quello più influente nelle fasi finali e ha chiuso con uno score da circa diamond qualcosa a mythic 1 legend con 24 vinte e due sconfitte quindi uno score devastante vado un po spiegarvi le scelte innanzitutto selesnia principalmente per il fatto che è un mazzo abbastanza veloce non è più veloce però abbastanza veloce che in generale sta bene dal meta con già delle decklist di base infatti è un aggro che batte aggro quindi in questo caso la mia scelta è ricaduta su un mazzo con una buona winrate un ottimo setup nel meta e poi ho cominciato a lavorarci sopra a differenza delle liste più convenzionali che giocano tipo adanto vanguard a due mana io ho preferito portare la terza emara per quanto sia una leggendaria risulta essere molto efficace e i settle the breakage soprattutto queste motivazioni sono state date dal fatto che il mazzo tende a perdere da grixis un po' un po' anche da jsky e assolutamente male da turbo fog quindi ho preferito non andare a cercare di rimediare troppo a questi matchup che comunque non sono troppo presenti in ladder ma di settare al 100% l'interessa del deck contro tutti i mazzi aggressivi che sono la maggior parte della ladder quindi una lista di selesnia token decisamente più aggro con la mancanza di quei pochi out quei pochi pezzi come erano appunto la danto vanguard che magari ti davano delle chance in più contro jskai per un semplice discorso come vi dicevo di percentuali set the breakage ovviamente la carta sorpresa che vince infinite partite fortissima in questa meta abbastanza unpredictable almeno fino a ieri probabilmente post risultato post qua e là la gente comincerà anche un po' a giocarci attorno ma resta una carta molto molto forte e super decisiva contro aggro portata a due per rispetto all'uno per che inizialmente si giocava da side eccetera eccetera questo perché ricordiamo stiamo parlando di best of one e abbiamo bisogno di fare una lista che gioca contro più o meno tutto con un paio di risposte anche a sorpresa perché altrimenti deccando delle liste che hanno vinto dei best of 3 famosi in tornei mondiali gp pro tour vari spesso non abbiamo l'interesse di una lista che poi è solida in best of one perché il side va a completare spesso le altre scelte sono monogiani io credo che due sia un palo nelle rare volte in cui ti succede di trovarti due aggiani in mano non sei felice quindi per il semplice fatto che è leggendario e che ha un power level ok molto forte ma non così decisivo ho preferito tagliarne uno e scendere al monopair per inserire la seconda setta da breakage e trostani solamente due per non tre per perché per quanto sia una creatura imbattibile in questo deck vale un po' lo stesso ragionamento non è che ne vuoi tre a mano iniziale per poi dire ho mai legato a quattro l'ultima ma non meno interessante tra le tech è la mono memorial to glory mono memorial to glory che secondo me è più forte di arca arca ci fa pescare una carta con la city blessing ma io nelle mie partite ho realizzato che quando mi trovo nello spot di pescare una carta molto probabilmente ho già vinto la partita quindi no win more oppure probabilmente l'ho già persa che è troppo tardi e ha neanche con una draw in più a turno ben pagata perché sono praticamente sei mana non si riesce a recuperare questa fitta meglio qui con Vogue da degli out e molto spesso vi troverete con l'opponent che va a fare un mass removal e EOT se non abbiamo la legion landing flippata questo può essere un out addizionale per portare gli ultimi schiaffi gli ultimi danni per il resto per quanto riguarda il gameplay io vi linkerò in descrizione quello che è stato il video della mia ultima scalata da mythic 4 a mythic 1 in modo che potete andare a vedere l'ultima partita che credo siano state quelle giocate anche più focus ed ovviamente per la voglia di cercare di fare questo rank 1 mondo e quindi penso che possano essere di aiuto per quanto riguarda il gameplay per cercare di capire le scelte le scelte delle varie starting and dei malligan e le preferenze magari in curva tra il mare e sapere l'immigration in determinati spot io vi ringrazio e vi saluto per questo video è tutto vi auguro ancora una volta buon natale mi raccomando like al canale follow su twitch se volete seguire un bel po più di gameplay in diretta rispetto a youtube e niente ci vediamo al mio oriente al 26 ciao belli saluti a tutti buon anno anche se non ci vediamo in tempo ma penso di sì